Stefano Polato è un giovane chef di Monsedice che partecipa in modo speciale alla missione che vede impegnata nello spazio la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Ma Stefano, in che modo partecipi a questa missione? Io sono stato nominato chef ufficiale della missione futura di Samantha Cristoforetti e collaboro con Argotech, che è l'azienda di Torino che è responsabile della spedizione e della produzione del bonus food per gli astronauti europei in capo all'ESA, quindi dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. E in che modo, con quali cibi sei nello spazio? Perché una parte di te è anche lì con lei, no? Sì, attualmente sta consumando parte del mio bonus food, diciamo così. Per lei abbiamo utilizzato molta frutta, molta verdura, cereali integrali, proteine sane, quindi pesce azzurro, carne bianca e abbiamo fatto anche qualche snack dolce in modo da soddisfarla anche durante gli spuntini pomeridiani di metà mattina. E tra l'altro so che c'è stato un lungo studio da parte vostra dei suoi gusti. Sì, abbiamo studiato approfonditamente i suoi gusti in modo da essere più affini possibile alle sue abitudini alimentari e ai suoi gusti. Ad esempio c'è un semplicissimo frullato di mela, pera, fragole e cannella che sfrutta tutti gli ingredienti tipici della sua zona. Lei è originaria della Val di Sole, quindi del Trentino, e noi abbiamo sfruttato proprio gli ingredienti tipici della sua zona. Quali sono le caratteristiche determinanti e importantissime per i cibi che viaggiano nello spazio? Per poter essere spediti i cibi devono passare necessariamente attraverso il food lab di NASA, quindi devono essere testati dalla NASA e in particolar modo i requisiti devono essere quelli di una lunga conservazione a temperatura ambiente. Nella base spaziale internazionale non ci sono frigoriferi e neanche freezer, quindi tutto viene stoccato a temperatura ambiente. La NASA ci dà l'obbligo di 18-24 mesi di conservazione. Oltre a questo, ovviamente poco sale, perché uno dei problemi principali dell'astronauta è la ritenzione idrica, quindi dobbiamo utilizzare pochissimo sale. Noi abbiamo scelto di non utilizzarne affatto, ma abbiamo sfruttato molto la capacità di insaporire i piatti attraverso le spezie ed erbe aromatiche. Un altro problema era quello di non dover produrre briciole, o comunque di non avere pezzi che svolazzassero in giro per la base spaziale internazionale finché l'astronauta sta mangiando. Quindi tutto deve avere una certa consistenza, una certa elasticità. Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di portare sulla Terra tutte le informazioni che stiamo ottenendo attraverso la missione futura di Samantha in quanto a sana alimentazione. Noi abbiamo prodotto dei pasti che siano funzionali nell'arginare i problemi a cui un astronauta va incontro. In primis il deperimento dell'apparato muscolo-scheletrico e l'accelerato invecchiamento cellulare. Quindi tutto quello che abbiamo prodotto per lei è funzionale a questo e noi attenderemo con ansia i risultati per capire se effettivamente il menu che abbiamo predisposto per lei la aiuterà ad affrontare al meglio la sua missione. Grazie. Grazie.